Il caos del web Usando al massimo le nostre capacità, le possibilità sono infinite. Qui a The Circle non esistono problemi che non possiamo risolvere. Senza segreti, con l'accesso a tutte le informazioni personali, potremo esprimere al massimo il nostro potenziale. Potremo vedere ogni cosa. Ma che cos'è? Non immagini di cosa sono capaci queste persone. Perché conoscere è un bene, ma sapere tutto è meglio.